Iniziamo questo talk show allora, innanzitutto buonasera, benvenuto a chi c'è in chat come potrete vedere da questo sfondo che ho messo ci sono i saldi di steam, sono iniziati oggi io sono Visector, se volete venire sul mio canale a vedere magari i futuri talk show, non lo so o partecipare alle mie live, trovate il link in descrizione siamo qui con The Pulp, buonasera, per scoprire i saldi di steam in un altro video che poi pubblicherò anche sul canale youtube ho già spiegato che durante questi saldi di steam, summer sale, steam ha rimesso di nuovo la cosa di fare il giochino flash con le robe là, con le stronzate lì, che mise, ma non mi ricordo che estate fu quello che ci fu quel giochino ma almeno 3 o 4 anni fa sì, una cosa del genere era almeno 3 o 4 anni fa, diciamo proprio esagerando 4 che ci fu quel giochino clicker eccetera quest'anno Valve l'ha rimesso e in quel giochino potrete girovagare per dei pianeti che si sono inventati a fare delle... praticamente dovete... avete una torretta con un personaggino chiamato in italiano Saldiano, anche se in inglese viene detto Salience, come tipo alieno dei saldi che deve proteggere, diciamo, gli sconti steam dall'attacco di questi alieni con l'elmetto dorato e niente, è un click che dovete cliccare con la torretta e sparare proprio questo fa il gioco vi sblocca degli oggetti che potete far indossare al personaggino tra l'altro quella scatola col punto interrogativo, non so se te la ricordi messa nei saldi primaverili ti sblocca un'armatura da far mettere al saldiano pensavo fosse più utile, invece è una stronzata e durante queste missioni potete sbloccare le carte per fare la medaglia dei saldi estivi vi sblocca... ah, vi da la possibilità poi di partecipare all'estrazione della vincita di alcuni giochi in base al pianeta, cioè ai suoi giochi che sceglierete vi consiglio di fare un... vedremo un ulteriore? no, devo fare una battuta vedremo un ulteriore crollo degli utenti in PUBG perché la gente starà a cliccare per completare questi pianeti ma a differenza del clicker passato qua, diciamo che pure se non ci giochi sempre non accade nulla perché non ha una medaglia però, per esempio, l'altro mi ricordo che dovevi mettere a farmare dovevi andarci a visitarlo ogni giorno perché dovevi controllare che il tuo personaggino avanzasse in domito, insomma e dovevi avere la fortuna di sbloccare quella mega medaglia e di finirlo pure il gioco che non tutti riuscirono a sbloccare io sì, ce l'ho fatto, fortunatamente vi consiglio, ragazzi, di farvi un giro per il mio canale YouTube perché ci ho già fatto una piccola streamata che metterò sul canale che parlo di quel giochino dove c'è anche, diciamo, la mini storia che ha e le regole, eccetera è inutile che ve lo faccio vedere qua perché dobbiamo parlare dei saldi e non mi va di mettermi a perdere tempo a fare più, più, più sopra quel coso cioè, no vedetevi il video, anzi, magari ve lo linko in descrizione così ve lo andate a vedere direttamente voi poi che c'è più c'è la possibilità, come sempre, di fare di fare, come si chiama quella cosa che mi hai detto che l'elenco scoperte per sbloccare altre carte della medaglia d'estive, giusto? esattamente, certo ora ve lo faccio vedere, eh, ragazzi cambio la schermata che mi sono già preparato tutto vedete OBS e questo Inseption? anche io finalmente vi mostro questo Inseption apro Steam e, ehm, andiamo nel negozio ci mette un po' di tempo, raga però funziona, fortunatamente mi funziona e andiamo a scoprire questa cosa delle elenco scoperte vabbè, intanto che si carica c'era The Pulp che, visto che lui ancora non funziona bene mi ha chiesto di controllare di iniziare a controllare i saldi di Bethesda quindi, come prima, diciamo software house che andiamo a controllare andiamo a vedere i saldi di Bethesda ecco qua, il negozio è a mesi aperto ci metto la schermata questa qua e vi faccio vedere allora l'elenco scoperto eccolo qua infatti vi darà tre carte io me lo faccio un attimo che tanto me ne faccio me ne faccio giusto uno per farvi vedere non è perché se no fino a qui ci mettiamo un'ora ogni bot basta che fate successivi perché sono 12 giochi quindi io ci ho messo letteralmente un'ora veramente vergognoso che Valve non sia capace ormai da tanti secoli esiste Steam di fare in modo che non imploda il loro negozio potrebbe fare in questo diciamo settimana di saldi quanto durano? fino al 5 è ufficiale fino al 5 oggi dopo 21 sono giusto due settimane due settimane di saldi potrebbero almeno in queste due settimane pagare un po' di più i potenziali server poi ritornarli come sempre però a me e quanto pare proprio probabilmente non gli va di pagare perché devono succare quanti più soldi possibile alla faccia nostra comunque raga qua ci sta mette un'ora l'elenco scoperto quindi mi sa che non vi faccio vedere manco una manco uno fino alla fine me li faccio poi io dopo la live con calmo perché se no ci mettiamo un'ora se mi caricasse almeno questo vi spiego il 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 da farsi vabbè ma lo sapete questa è una cosa che sapete quindi ritorniamo al negozio anzi facciamo così come faccio a mettere la visualizzazione in base alle software house se ci riesci mi ricordo che tu mi passasti la pagina si 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 te la ripasserei se non fosse che lo spiegone lo spiegone eh guarda lo spiegone per ora riesce difficile perché allora raga vediamoci intanto intanto le offerte del giorno che sono queste qua non sono più come era fino a qualche anni fa attenzione offerte che poi variavano nel tempo no ormai valde ha cancellato quello che era un simpatico e convenientissimo modo di vedere i saldi ma sono semplicemente delle offerte che ci sono per tutte e due le settimane che valde vuole mettere in vetrina un po' come quando andate in negozi d'abbigliamento e ci sono i saldi voi nella vetrina vedete solo alcuni dei saldi ma poi trovate il resto nel negozio quindi qua si in effetti è una bella cosa vivi che vuoi farci vedere questi qua giornalieri però è bene ricordare questa cosa ma rocket league ancora 10 euro e dai abbassate lo so ebbè qua offerte del giorno e ci sta squad che questa laga è un bel battle royale a me carica ecco infatti a me si è caricato eee everspace che non ho un'idea di che sia transport fever che è un bel simulatore però il prezzo non è tanto conveniente quindi neanche ve lo consiglio a quel prezzo sinceramente a meno che non vi piacciano solo i simulatori allora prendetele basso ecco per esempio da bethesda possiamo intanto controllare il fallout franchise che sta nelle offerte giornaliere ci clicca così ma andiamo a controllarlo allora fallout 4 15 euro 15 euro il season pass gothi il gothi sta 30 e il season pass solamente uah ma la miseria non conviene proprio prenderlo a questo punto uno si prende il gothi nel gothi c'è la season pass assolutamente si perché la gothi sta a 30 euro il season pass 25 è il minimo storico fallout 4 gothi a 30 euro minimo storico anche per fallout 4 15 euro liscio season pass è rimasto a 25 euro ed è assurdo perché è rimasto tale in effetti come hai detto tu vivi ma non c'è proprio più alcun motivo proprio umano per prendere il season pass solamente tra cui mio fratello poi glielo dirò dico senti è assurdo ma affetta fallout 4 VR la prima volta che è in saldo non per quelli che sono casomai interessati avere il VR diventa sempre più costoso comunque fallout 3 scelta quello che deve uscire ah no questo con la il free to black esatto probabilmente non clicco non ho poco poco interesse saranno scontati gli oggetti in game allora sono sincero mi aspettavo qualcosa di più però continuo a mantenere 10 prezzi sui 10 euro mi aspettavo un 75% si fallout 3 gothi è stato anche a 5 euro new vegas altimate non è mai stato sotto i 10 euro però ragazzi non tutto è perduto però ragazzi su steam c'hanno questi prezzi io mi preparo la pagina instant gaming perché provo anche ad aiutare me stesso non per essere ipocrita ma lo faccio anche per magari far risparmiare voi se uno si vuole comprare un fallout fa su instant gaming vediamo fallout 3 infatti sta la gothi sta 4,53 quindi già se uno vuole comprarselo vada su instant gaming e se lo compra fallout new vegas ultimate edition sta poco di meno però sta comunque di meno rispetto a quella di steam infatti sta 8 euro rispetto ai 10 di quella di steam quindi ragazzi come vi ho detto vi faccio vedere questa cosa di tra l'altro anche la gothi sta di meno 21 euro è il minimo penso totale quindi assolutamente è un super affare per quelli folli che ancora non hanno fallout 4 quindi ragazzi vi invito a cliccare il banner in basso alla mia alla mia stream se volete prendervi un titolo fallout fatelo su instant gaming così mi aiutate anche a me se volete vi faccio anche il link se vi scocciate di andare a comprare eccetera eccetera ma non ci vuole nulla è un click pic fallout scrivi fallout e ve lo prendete da questo punto di vista quindi bocciamo bethesda per quello che riguardano i salvi fallout su steam instant gaming si sa è un altro tipo di mercato male molto male bethesda però raga instant gaming è un sito affidabile cioè si può comprare tranquillamente non vi preoccupate è un sito fatto bene non è come kingwin che ci sta tutta l'immondizia dell'internet sopra su instant gaming come anche g2play anche se su g2play pure si rischia ma non è perché voglio fare l'ipocrita però su g2play pure ho saputo di gente che magari si è comprata anche la key di pubg e poi si è ritrovato l'account bannato perché magari quella key chissà dove minchia venisse comunque per quanto riguarda la serie fallout prendetela da instant gaming poi dobbiamo vedere come cavolo si faceva ah poi Bethesda che c'è più quake no io direi e qua invece questo è quello che interesserà un po' a tutti vogliamo vedere la rockstar a quanto si sia legnata di metterci GTA GTA 5 dai questa questo adesso abbraccia concerte voglio proprio vedere visto che sto guardando te a me non va inutile sa 19 e 79 19 euro e 79 GTA 5 ti devo chiedere ma sei sicuro si record e questo è un bello guarda la stream mettiti la mia stream si purtroppo lo sai che c'è sempre penso che è una bella botta complimenti secondo me qua perché ha visto un po' sfiando intorno che siti come il tuo instant gaming su instant gaming sta 18 euro però quello di instant gaming raga bisogna avere il rockstar launcher esattamente se lo vuoi avere su stream lo devi pagare un euro in più ed è un grandissimo prezzo 19 e 79 ok è un gioco di 5 anni fa però è GTA 5 cioè non merita non è neanche necessario spiegazione a me serviva il DLC per esempio di GTA 4 però non lo prendo perché 5 euro per un DLC per un gioco che non farei adesso non lo prendo attenzione che ha la piaga Games for Windows Live attenzione tra l'altro anche questo lo stavo per dire comunque raga non va bene per quanto riguarda i vecchi i vecchi GTA perché ci sta sia San Andreas sia Vice City sono stati spesso a meno di questi prezzi qua singoli 3 euro e 49 quindi lasciateli perdere perché non ne vale la pena anzi se volete comprarli ve li dico su su Vice City vedete Vice City per esempio sui Stunt Gaming mettiamo solo quelli di Steam sta già 1 euro e 87 quindi evitatela da prendere perché 1 euro e 87 ci sta perché 3 euro e 49 anche su Steam sono stati a meno poi c'è anche Grand Theft Auto Trilogy a 6 euro e 89 su Steam quanto stava la Trilogy sta anche quella meno di Steam che sta 7,49 GTA 3 singolo pure S1 euro e 35 quindi pigatevi la Trilogy se vi ma pigatevi Vice City o 3 San Andreas sta di più stranamente sta di più quindi non vi conviene prenderlo da Instant Gaming Episodio se vedi per esempio nel mio caso che ho detto non voglio prendermi il DLC perché sta troppo diciamo su Instant Gaming volendo me lo posso prendere perché sta 1 euro e 98 e mi completerei GTA 4 però c'ha quella cosa di Games of Windows Live quindi non fa niente lasciamolo volente lì poi allora io intanto metto un attimo eh ho sbagliato perché voglio provare a vedere se riesco a recuperare la schermata dove erano divisi tutti 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 gli sviluppatori di Steam allora Bulletstorm tu ti hai detto che ti interessava un attimo se vedi il prezzo giusto? si full clip full clip edition ma ti dico subito quanto costa eeeh guarda micchio qua non la trovo proprio la quella pagina mannaggia tu dove me lo mandasti quel link su discord sul discord allora lo recupero allora la full clip edition ancora si ricarica da browser a me non va a me non va incredibile non ho capito perché te va developer publish eccola qua eh no non funziona questa pagina la pagina dei developer non funziona funziona niente a me è veramente roba proprio da da dinuncia guarda vabbè continuiamo così allora che c'è più Bethesda quake stavamo dicendo giusto? si allora chiudiamo perché mi sa che sta facendo conflitto col browser non va più neanche il negozio a me ragazzi è di crash è di crash esploso proprio è indecente non ci non ci permette di fare la nostra stana conversazione vabbè allora intanto bullet storm su instant gaming la full clip edition sta a 15 euro e 49 ok ok nel browser non va più proprio il negozio su chrome ah ecco curatori no aspetta curatori no wow fino a me stavo andando benissimo non va più stavo andando così bene accidenti di questi giochi menzionati fino adesso raga vi interessa qualcosa a quelli che magari stanno seguendo a me non va più il negozio no non va più veramente defundo che dici provare a avviare steam no ma non occorre inutile io sto con due browser aperti con steam niente nessuno dei tre la comunità invece continua a funzionare ora per esempio quello che vi posso far vedere appunto dalla comunità vedete eccola qua questa è la medaglia dei summer sale praticamente è quella di formare le carte magari vedete queste tre se riuscissi a fare quella benedetta cosa del visionare i giochi uno se le completa queste arrivano sempre a livelli altissimi non so come cavolo facciano le persone a sbloccare le medaglie tipo a livello 10.000 non ne ho idea di come la gente faccia non ne ho idea tra l'altro non vi so dire perché di solito danno queste carte anche quando uno acquista acquista qualcosa dal negozio allora vedete il negozio non va resta la schermata nera proviamo ad aprire la pagina di un gioco vediamo se quando ho levato è la pagina del negozio niente non va proprio ragazzi è interrotto stava andando benissimo si è infatti sto sul sito steamyisdown e mi dice che steamyisdown vi faccio vedere una farmata allora dai farmiamoci un un altro painkiller anzi farmiamoci compagno virus vuoi fare come quelli di youtube che aprono le casse in diretta per tutti voi vedi ti esce la cartella la cartina che tra l'altro queste carte hanno una scadenza come sempre finiscono il 6 agosto 2018 perché quelli hanno il mese e il giorno invertito quindi il 6 agosto finisce aspetta però ma ho capito se è il 6 agosto o l'8 luglio bastardi penso sia il 6 agosto si è il 6 agosto per forza anche perché finiti dovrebbe essere 8 giugno ed è impossibile quindi il 6 agosto cioè ciao alfio benvenuto stavamo parlando degli sconti almeno fino a quando ha funzionato il negozio steam abbiamo menzionato i fallout che conviene prendere da istante gaming se ti interessa comprare qualche fallout vai in basso alla mia stream c'è il banner vai su istante gaming prendi da lì che li paghi di meno lo stesso che abbiamo visionato il gta se ti vuoi prendere o vice city o il 3 oppure la trilogy ci conviene sempre prenderla da istante gaming per i prezzi è quello per questo poi niente si è interrotto tutto ho fatto vedere le offerte giornaliere resident evil 7 giusto tu mi avevi chiesto di resident evil 7 hai ragione mi piacerebbe farlo vedere ma l'ho potuto vedere io prima alfio non so quanto tu sia felice ma ti dico che resident evil 7 gold edition sta 31 euro minimo storico se invece e permettimi non ha senso vuoi solo il gioco liscio di resident evil 7 15 euro se invece se invece vuoi comprarli da istante gaming il gioco liscio 8 euro la gold edition 20 euro e 22 centesimi è veramente sono completamente regalati per quello che io considero un grandissimo titolo di mamma capcom quindi alfio in questo caso vince instant gaming 2 a 0 se vuoi comprarti adesso resident evil ti mando i link subito dimmi tu fammi dimmelo tu nel caso lui voglia comprando su instant gaming lo prendi allora alfio ti spiego io su instant gaming vedi qua sono affiliato se compri tramite il link che ti passo io oppure utilizzi il banner che trovi sotto la mia stream mi aiuti a guadagnare continuare a guadagnare qualcosa tu non ci rimetti nulla dalla tasca vedi io lo vedo a 20 euro 22 la stessa cifra la paghi tu non è che tu ti costa in più è solo un piccolo aiuto che dai a me quindi se ti va di darmi un aiuto dimmi si o no io ti passo il link ti dico compratelo mi dici quale versione vuoi se la base o quella gold e te lo compri anche adesso tanto te li abbiamo detti i prezzi ti conviene piartelo da instant gaming giusto per correttezza di informazione e completezza comprando su instant gaming ricevi una chiave la chiave la metti su steam e ce l'hai su steam e ce l'hai su steam 22 dicevi scusami marco no 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 è semplicemente quello che alla fine hai appena detto poi se vuoi il gioco solo 8 euro però ti conviene prenderti la gold perché poi se ti prendi il gioco e vuoi qualche dlc il season pass sta 16 euro poi sforio vai a 24 ti conviene piarti la gold edition costa anche meno di amazon giusto per completare ancora di più perché su amazon arriva a 30 euro dimmi tu alfio ti faccio subito il link e te lo compri così ti faccio risparmiare di clicca eccetera tu sei già iscritto a instant gaming ed vi faccio vedere qua ragazzi appaiono no aspetta dove ah qui affiliazione io al link basta che aggiungo questa cosa qua vedete e mi da qualcuno si è preso GTA 5 come sono arrivato vedete ragazzi questi sono tutti i giochi che hanno comprato le persone che hanno deciso di darmi un aiuto e questo è quello che ne ricavo sono centesimi nulla di che che a voi non pesano sul prezzo così avete visto come funziona anche instant gaming e beh io ti metto il link sulla chat questa è la gold edition tac anzi facciamo così te lo mando nella chat privata così tieni a mente da twitch to e prendi la gold edition ok te l'ho mandata ti ho creato il link se lo intanto intanto se non l'hai fatto ancora visto che lo prendi domani se non l'hai fatto ancora comunque iscriviti a instant gaming è un attimo puoi pure connetterti con l'account facebook non ci vuole assolutamente nulla e domani se ti ricordi magari vieni su twitch vai nella chat privata ti apparirà in basso a destra e ti pigli il link e vai oppure me lo richiedi di nuovo a me io te lo creo al momento oppure clicchi sotto ormai il link ce l'hai no ma grazie a te grazie a te se lo prendi se hai scelto instant grazie a te no aspetta questo è il gioco base no assolutamente ah la gold edition è esaurita su su instant gaming attenzione perché era l'affare della vita attenzione alfio quel link che ti ho mandato è la versione standard non è la gold edition prodotto esaurito però non era troppo un affare in effetti 20 euro e 22 per un prodottone uscito 7 mesi fa un affare della vita ditemi cos'è vabbè comunque guarda instant gaming è un sito che esiste sempre le rifocilano poi di che un'altra volta quindi tienilo sempre ad occhio tienilo sempre a mente perdonami alfio ci sono tanti altri resident evil su steam nel caso dici se ti interessa qualcos'altro di resident evil su stant gaming ci sta il 4 a che prezzo questo è la ultimate hd si 4 euro e 28 rubatissimo poi vabbè resident evil 3 euro e 85 è quasi da denuncia talmente che è fantastico come prezzo la resident evil origins con l'enzio non è il preorder è solo la pagina non si può fare il preorder ah ok purtroppo e dici na na sta scritto ah ok perdonami ho gli 8 secondi di ritardo con twitch non ti vedo in tardi vabbè diciamo che la origins collection pure conviene se ti mancano i i due hd lo 0 è il primo fatto in hd la origins collection 5 e l'85 sinceramente solo il 7 è quello che mi interessa comunque dai che la versione standard 7,99 è buono beh si figurati uno raga è uno in base alle esigenze se vuoi proprio che non ce la fai e non resisti allora pigliatelo 8 euro che cosa posso dirti non ti interessano altri residenti come è possibile guarda che questi qua la la origins collections per chi non li ha giocati è una manna vedi mi chiedono a questo punto chiedo a te oh si è ripreso il negozio allora appunto fammi sapere un attimo di baionetta bullet storm full clip vediamo quanto chi è che ha chiesto baionetto sempre per quella questione dell'evento mi sta una persona mi ha proposto baionetta ah già li tieni ok bravo ne io grande altro eh però se cerco i giochi non va il negozio funziona ma i giochi no le pagine dei giochi no l'unico l'unico silent hill purtroppo che c'è su su steam sta 3 euro mamma mia cioè io lo preordinei 40 euro 10 anni fa andiamo su su instant gaming non ci sta nemmeno silent hill eh figurati conami tutte meraviglie half life half life con pieno ero il 62 così tanto con chi ce l'hai papà con chi ce l'hai papà ah perchè ridi che perde la gentile coming gong è forse il titolo peggiore di tutta la saga di silent hill ha scritto alfio addirittura e perchè scusa ma non è shuttered memories che sta su steam no è homecoming ah homecoming ah quello ha scritto mio padre è impazzito l'italia non è i mondiali però ho rullato l'italia eh vabbè parla per gli gli eventuali mondiali 4 anni fra 4 anni comunque sarei veramente curioso perchè lo consideri il peggiore oh ecco qua finalmente ah allora vediamo i quake io ce li ho tutti ragazzi perchè ci sta intanto metto anche su instant gaming quake su instant gaming c'è solo quake champions che sta 27 euro non lasciate perdere alfio ho sentito palpa chi ha chiesto papà non urlare però cioè pazzito allora quake 3 arena 749 quake 1 1 euro e 24 proviamo a vedere li fanno sempre i pacchetti allora quick collection 12 euro e 49 che raga è regalata non c'è il 4 però pensavo ci fosse anche il 4 quindi resident evil 7 eh sta 20 euro la versione base sta 20 euro lo trovi troppo facile il 2 e il 4 il 2 è votato come il più ecco qua vedi recenti con il set su su steam sta 19 e 49 io te lo dai instant 8 euro cioè quanto cacchio rispare prego prego alfio marco che m'avevi chiesto tu baionetta eccomi qua ero un attimo andato di là ad assistere a ho controllato i quake la quick collection sta 12 euro e 49 però non c'è quick 4 quick 4 ragazzi che io consiglio tantissimo sta 7 euro e 49 è stato anche a di meno quindi è stato a 5 euro è stato lo dico tranquillamente perché l'ho comprato io personalmente proprio junior l'estate scorsa con i saldi scorsi quindi ennesimo flop ecco qua sto sulla pagina di bethesda vediamo un po' doom 3 1 euro e 79 però questa è l'espansione resurrection of heavy invece il normale sa 1 euro e 24 su la bfg edition su instant gaming ragazzi sa 2 euro e 36 porca puttana vediamo su steam quanto sta la bfg 7 euro e 99 ragazzi andate su il prezzo andate andate su instant gaming ragazzi andate su instant gaming guarda non è neanche esaurito cioè 2 euro e 36 e vi passa la paura sono 5 euro in meno anche in più perché questo è 8 euro 7,99 per quanto riguarda la collezione di doom vediamoci tutta la la doom classic complizza sta a 6 euro vale almeno 10 volte quella cifra su instant gaming non c'è quindi ragazzi 6 euro valutate voi se invece vi mancano singolarmente ragazzi a parte questa squadra di ultimate doom che non capisco il perché però singolarmente se vi ne mancano diciamo singoli anziché tutti quelli della doom della doom collection quando stanno nel 75% prendetevi in quel caso lì prendetevi poi chi ci sa più gli elder scrolls i fallout ne abbiamo parlato se riescono a battere il record di skyrim 3 euro the elder come si scrive scrolls mettiamo solo steam allora su steam questa che era la special edition di skyrim quella che conta è la leggendari costa 8 euro e 76 andiamo a vedere no su instant gaming ecco che era super su steam la su steam c'è la special edition che costa 20 euro invece su instant gaming la special edition costa 15 euro e 58 anche questa volta ragazzi andate su instant gaming io comunque mi consiglio la leggendari perché per 8 euro e 76 anche se non sbaglio è costata di meno giusto la leggendari mi pare una volta stimola mi sa 7 euro e 49 che me la presi anche io posso confermare per quanto riguarda questi ragazzi pure i prezzi dei vecchi skyrim meno 50% è troppo poco lasciate stare aspettate evitate se potete evitate cattiva bethesda finora no cattiva no andai vai su su instant gaming che cazzo te li prendi là e giochi per forza e vediamo a vedere un po' per farci due risate la ubisoft con i suoi soliti franchise vediamo la la idsoft per più che altro dopo allietaci con la ubisoft mi sto ancora aspettando un bel far cry come si deve a un bel 3 euro come se si apre la pagina di idsoftware quella di bethesda si è aperta facciamo prima far cry non c'è nulla di far cry non è possibile nessun titolo dice scherzi ah eccoli qua sono usciti vediamo far cry mettiamo steam e ormai solo chiavi uplay su su instant gaming quindi se lo volete su steam andatevela però se le volete solo su uplay che ve ne sbatte il cazzo di giocare tanto comunque vi serve vi serve uplay per giocarli i prezzi sono questi far cry 4 10 euro far cry 5 37 primal 12 30 sono un po' alti questi qua di anche blood dragon è alto controlliamo su steam allora che volevi sapere tu i prodotti di ubisoft so far cry tu mi hai chiesto far cry mi hai detto esattamente il primo già sta 3,99 è costato anche di meno quindi già evitato blood dragon è la stessa cosa diciamo che sono tutti i titoli che sono stati al 75% tranne il 4 e il 5 che io sappia mai andati al 75% quindi ci sta però gli altri evitati perché sono tutti al 60% quindi non conviene devil mccry la special edition sta 10 euro ma è tanto raga è tanto nulla di che è ubisoft Marco ok e anche questo almeno per i far cry vediamo se si apre la pagina di ubisoft si allora 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 Treehouse Rising l'hanno messo su Steam Skull & Bones, questi sono quelli là che abbiamo visto alle 3 D'Ubisoft c'è Brothers in Arms Mamma mia Brothers in Arms, tutto il pacchetto 3,74 euro, sono dei Capolavori, anche singolarmente Il prezzo conviene tantissimo Quindi prendete Lo guardo anche a nord di cronaca Giusto per Brothers in... ah non c'è Manco su Instant Gaming Va bene, quindi Questo prezzo qua raga va bene Sì, vabbè Mio padre ora si è messo a fare la pecora Scusate un attimo, torno subito Mitico padre Di Vivi Sector Vivi Sector? Ma sì, va bene Sì è una domanda ho capito mio padre perché faceva così che dice che in Italia gente che prende miliardi cose hanno perso quindi ci sta insomma la sua esultanza comunque brothers in arms abbiamo detto raga capolavori pigliatevi lì assolutamente che c'ha più Ubisoft ah Assassin's Creed Assassin's Creed ehi che prezzacci di nuovo allora c'è il 4 che 8 euro brotherhood 6 euro rogue 8 euro io non me ne interessa di Assassin's Creed non è una saga che mi interessa quindi ah so più DLC che giochi mamma mia quanti DLC che schifo che schifo su Istant Gaming Assassin's Creed costano di meno su Steam stavolta c'è già odyssey su Istant Gaming a che prezzo 45 euro cavolo praticamente 15 euro in meno ottimo 6 euro e 79 3 euro e 13 eh la madonna è meno della metà però è solo Uplay raga Istant Gaming è solo Uplay giochi manageriali ti piacciono? no non mi piace non mi piace a parte che a me non piace il calcio quindi comunque buonasera Gladio a te interessa o hai qualche domanda in merito ai saldi? comunque prima ha risposto Alfio per il Silent Hill Marco ah purtroppo non l'ho visto perché ha detto perché è troppo facile perciò ah che facile eh vabbè giustamente è un suo pensiero ma buon raga è inutile che ve lo dico Istant Gaming quasi tutto raga costa sempre di meno i Doom abbiamo visto che ci sta più la Rockstar l'abbiamo visto l'abbiamo visto ah Tom Clancy vediamo Tom Clancy allora si non l'hanno proprio scontato strano perché non l'hanno scontato eh vabbè ma sono alti io l'ho visto di me Vegas 2.339 ma è stato anche a 2.49 giusto? si assolutamente si Splinter Cell allora raga questi qua sono tutti questi qua più vecchiotti sono tutti titoli che sono stati a 75% quindi a questo prezzo prendetevi se proprio volete proprio quando stanno tipo un euro meno di 2 euro potete prenderli altrimenti no lasciate perdere questo è il mio consiglio diciamo Rainbow Six non lo scontano perché è un gioco molto giocato e competitivo ah buono hanno scontato player no non scontano Rainbow Six peccato sono stati stupidi scusa mia poi però aspetta quella è la Starter Edition 15 euro vivi controlla se anche le altre no la normale Tom Kless si non sta scritto Starter Edition no le altre però la standard sta a 20 euro si queste qua le hanno scontate ad avance 25 gold 40 complete 60 ah ma comunque sono prezzi alti per me però era come immaginavo hanno voluto comunque scontare secondo me hanno fatto bene sai non abbassare quello che è il tetto minimo purtroppo come ha detto Claudio siccome è un gioco assolutamente ancora sull'onda non hanno voluto abbassare il tetto minimo di prezzo perché hanno detto no andiamo Counter Strike vorrei dire teniamo un pochino la qualità 6 euro e 24 vabbè Counter Strike rimane sempre su 6 euro andiamo su su Istant Gaming quanto lo fanno Counter eh su Istant Gaming ecco questo è il primo caso in cui conviene prenderlo da Steam vabbè qua si vede perché il gioco è di Valve quindi fanno il cazzo che vogliono e perché sta su 7 euro e 78 addirittura Source sta 10 euro e prendete allora Counter Strike prendetelo da Steam ecco questo è il mio consiglio anzi il mio consiglio per CSQ è non compratelo affatto lasciatelo morire perché è un gioco che sta morendo quindi lasciatelo morire inutile che vi continuate ad accapezzare sui gruppi c'è ancora la gente che si sbatte e fa le domande raga fatelo morire non vi posso dire Valve Complete Cap Cap Valve Complete Pack quando costa perché ho tutto quindi non mi fa vedere il prezzo troppo neanch'io però posso andare a vedere da Google da da quello che è comunque Internet Explorer però qua sta roba al 90% quindi Valve Complete Pack per i folli che ancora non hanno la roba è al 92% di sconti quasi commovente tutto il ben di Dio della valle 12,52 compreso CSQ 12,52 è praticamente quindi praticamente raga non comprate Global Offensive singolarmente perché costa 6,24 euro prendetevi tutto anche se vi mancano 3 o 4 giochi prendetevi tutto perché 12 euro raga cioè i giochi Valve lo dicevano cioè ci sta Portal ci sta Left 4 Dead ma io io mi auguro e voglio sperare che chiunque stia guardando ora e guarderà questo video abbia già tutto di Valve anche perché sono stati i primi giochi di Steam raga che ha iniziato tutto da là quindi e anche Valve ci siamo tolti il pensiero ottimo i prezzi di Valve raga li ho visti anche anche se erano cancellati vanno bene quindi il consiglio resta sull'acquisto se vi manca qualcosa anche singolarmente prendetela e toglietevi il pensiero una volta per tutte andiamo a vedere un po' dalla mia lista desideri facciamo una se funzionasse chiaramente perché me la sono messa in ordine crescente dal prezzo più basso a quello più alto molte cripto ad bitcoin saga questa stronzata me la posso levare dalla wishlist perché non me ne può fregare un cazzo oh c'è descendant gratis allora questi sono tutti giochili stupidi questo raga ve lo segnalo c'è carmageddon tdr2000 a 99 centesimi questo se non ce l'avete io dopo me lo prendo perché perché vale la pena assolutamente prenderlo poi c'è vediamo un po' questi tutti i giochi che sono stati pure in bundle the good life l'hanno colato ancora di più il prezzo questo mi fa piacere che costava 1,99 adesso sono 1,79 ecco per esempio ciao fabio scolla a te questo per esempio gladio the good life è un gioco dove è quasi un manageriale è un gestionale ma devi fare la bella vita praticamente hai l'isola la barca devi fare le cose che fanno i ricconi perciò si chiama the good life il carmageddon max pack 2 euro ragazzi questo è un altro pezzo che è al ribasso che io consiglio se mi sa che quest'anno è la volta di carmageddon carmageddon per me questo giochino qua ragazzi vediamo se si apre la pagina è un giochino che potrebbe piacere a me shield però non è multiplayer è un gdr tutto a tema mitologia non rena è un po' la mitologia viking mi frena diciamo questa scritta nella media fatemi leggere più o meno perché c'ha le recensioni negative vabbè me lo vedo per fatti mie però quella è l'unica cosa che mi frena the the island retro revenge 2 euro e 49 ecco questa è un'altra cosa che potrei consigliare la sky force anniversary 2 euro e 49 rega un bel prezzo perché è costata sempre sui 6 euro quindi quest'anno è stata 2 euro e 49 che c'è questi sono gli shooting map quelli da degli aerei verticali dimmi no ti scrivo in privato perché è una cosa che non c'entra il vabbè l'hanno vista comunque perché vedono quello che vedo io va bene tra l'altro a questo punto lo consigliamo a tutti ci tengo però a dir è importantissimo lo apri adesso e deve chiudersi in quel periodo preciso è importante quale periodo precisamente deve chiudersi il 26 giugno alle 23 59 è è tassativa a costo che te lo facciamo chiudere 23 giugno no 26 aprilo pure domani quando vuoi vabbè lo apro dopo la live lo apro quando vuoi si chiude il 26 giugno 2018 ricordamelo dopo gentilmente va bene comunque vabbè ragazzi io sono un appassionato di giochi di pesca questo 3 3d fishing è un arcade che sembra più o meno caruccio molto basilare questo secondo me è preso da qualche qualche altra c'era fatto qualche porting perché sembra veramente un porting e se proprio vi piacciono i giochi di pesca prendetevelo anche se c'è di meglio su sim il carcel cruiser si giochi ancora con questi prezzi alti che li hanno buttati in tutti i bundle ma come si permettono i simulatori raga io sono un appassionato quando sono di ormai anni vecchi consiglio di non acquistarli mai singolarmente da stimo perché che fanno sempre 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 dei bando quindi scelsa ragazzi tu l'avrei preso ma è stato a prezzi più bassi quindi anche questo viettana è stato a prezzi più bassi line of sight viettana metal gear solid ground zeros 4 euro mi pare che non è un'altra scelta che è stato già altre volte ground zeros a quello che pura cifra lì sarebbe interessante però conoscere il prezzo di metal gear solid di 5 è il completo andiamo a vedere metal gear definitiva eccetera sta a 15 euro solo metal gear però 15 euro pure solo metal gear e allora tanto male che uno si prende la definitiva esattamente conviene fight of gods uh 4 euro questo è un gioco che volevo portare su steam e adesso vedremo in diretta vivisector che fa lo scioppone perché oh wow freia l'hanno messo come DLC bastardi come brutta tra l'altro freia l'hanno fatta una ragazzina giappo ma che è ma come osano trattare freia così bastardi come osate trattare freia così fight of gods ragazzi è un picchiaduro a incontri dove ci sono tutti 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 dei di qualsiasi religione praticamente che si tirano mazzate vedete qua l'immagine c'è c'è Gesù contro questo chi è Buddha no non mi sembra Buddha deve essere qualche deo hindu e qua c'è Zeus contro Dino è un gioco molto molto sfizioso secondo me quando uno vedi uno che dice vuole sempre imprecare almeno qua uno picchia direttamente i dei questo pure questo mi sa che è il secondo giro lo propongo fight of gods va bene non ho capito al secondo giro del gruppo ne riparleremo poi perché figurati ho messo un'ora per contattare l'altro quindi sta una bella fatica poi vedremo dai è stata tosta 4 euro mi tenta raga mi tenta 4 euro perché voglio portare in live parlacene di chi si tratta fight of gods è picchiatura incontri che si sta gesù contro odino buddha contro zeus è il combattimento di tutti dei dei di tutte le religioni è uno sfizio tra l'altro è ancora in accesso anticipato quindi questo sto 4 euro non è male come prezzo perché questo poi se sto gioco lo fanno completo te lo sparano a 20 euro e fai la fine di breakfast zombie raga questo è quel gioco che proviene dalla nintendo dalla wii wii u e wii u si e costa 4 euro vediamo su instant gaming zombie se c'è zombie c'è e costa poco di meno 3 euro e 45 però è solo you play zombie army trilogy e ancora tutti sti soldi costa ma vai a cacare cazzo fight of non c'è su quello la gods su instant gaming quindi va bene così e niente raga è il gioco della wii u che pure sembra sfizioso 4 euro pure è un buon prezzo poi vediamo un po' cos'altro c'è di buono almeno dalla mia wishlist just cause 3 4 e 49 questo è un prezzone just cause 3 mi sa che è minimo si assolutamente si ma ci sta perché sai su instant gaming costa di più ragazzi quindi anche nel caso di just cause prendetelo da steam 4 e 49 questo pure potrebbe essere una mia seconda proposta per il gruppo addirittura la xl sta 6 euro e 74 raga è un prezzone è il prezzone prendetevelo se questo mi sa che pure ci penso me lo piglio intanto c'ho tutti i soldi della roba che ho venduto di csq quindi ve li posso prendere ecco exiles end questo è un titolo interessante tra l'altro anche uno stile abbastanza retro pixel art è un metroidvania come potete leggere da qua pure 4 e 49 questo è un titolo che è stato messo anche mi sa in qualche non c'è su su instant gaming ragazzi vi voglio far vedere visto che nella mia mia wish list non ci sarà perché perché ce l'ho già eurotrack simulator 2 appassionati di simulatori questo è il gioco proprio per eccellenza migliore di tutti costa il gioco base 49 4,99 nel caso di eurotrack mi sa che conviene prendervelo da instant gaming perché costa sempre di meno fatemi vedere allora la legendary edition no vabbè questa non serve la goist non serve li hanno abbassati no questo è solo il dlc li hanno abbassati comunque i prezzi eccola qua la gold edition sta 7 per 20 ragazzi questa ve la consiglio perché ci sta goingist la donna cioè se il gioco base è più goingist quindi prendetelo perché vi conviene anche perché insieme vanno oltre i 7 euro e i 20 di quello che costa vi consiglio anche scandinavia perché il prezzo è bassissimo e anche Italia perché è stato no Italia Italia si è sempre mantenuto questo scandinavia è bassissimo prendetelo e il dlc principale ragazzi lo special transport viva la francia ve la potete prendere da 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 stimo perché qua se non sbaglio costa di più si infatti vi conviene prenderla da stimo anche vi cargo si nel caso di aerotrack ragazzi prendetevi vi consiglio di andare su stimo per quanto riguarda aerotrack simulator 2 questo è uno dei miei altri consigli vediamo ancora che ci sta ducktales eh boh sempre sempre quelli prezzo cazzo pure questo madonna dungeons and dragons ragazzi questo è un gioco bellissimo però ha sempre un prezzo ancora alto 4,71 per quel gioco là shantai questo è il vecchio e ancora 5 euro no delusione male 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 io raga queste cose che dico delusione convenienza lo faccio a gusti miei personali eh poi se uno ha la possibilità e gli interessa solo quel determinato gioco valuti bene l'acquisto perché conviene sempre in questo periodo acquistare perché sono consapevole che c'è gente che magari gli interessa acquistare solo una determinata cosa quindi allora in quel caso lì va bene va bene qualsiasi cifra diciamo è sempre conveniente devil within sta 5 euro questo pure è un un prezzo basso mi sa su instant gaming sta un poco di meno quindi pigliatevelo da steam e amen devil within dovrebbe avere anche qualche dlc se non sbaglio addirittura il bundle secondo me si può aspirare di meglio se bastano lo brelli evo questo è un prezzo minimo storico perché 5 euro non l'ho mai visto sto prezzo questo gioco quindi confermo sto conferito ti vedi in diretta confermo minimo storico sta anche di più su instant gaming quindi minimo storico per steam acquisto da steam se vi piacciono i giochi di rally chiaramente 5 euro questo è un altro prezzo in cui fare ma perché questo mo c'ha la special idea perché c'ha le macchine questa cosa che fanno le special e bla 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 ti smorza la voglia di acquistare minimo storico anche per american track simulator 5 euro questo è come aerotrack solo che sta sulle strade americane inizio a sentire un caldo boia che ci sta più di bello questo qua course and chaos 50% io quando vedi 50% mi blocco sempre perché so che possono arrivare al 75 tranne per il color beauty che non arriveranno mai sotto al 51% la bolla tra l'altro attivizio non l'abbiamo visionata mi sa che dopo uno sguardo ma che sta premessa che ho fatto questo ragazzo titola stampo retro molto molto sfizioso che però ragazzi cuero sciade 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 fidate sì sta roba che capita nei bundle 5 euro vi via 37 giochi duke nukem la la ventesima anniversario parizione 5 euro va benissimo vediamo gli altri duke nukem non l'abbiamo controllato la 3d real ma se proprio non l'abbiamo controllata no scusami la la gear ma anche la 3d real fa un caldo bestie ragazzi non ce la faccio più allora duke nukem perché non trova niente che caldo bestia che fai in questa stanza li vediamo dopo canse cannoli questo raga si trattengono sempre nello scontarlo bene purtroppo si kick off ravi vado 5 euro all'inizio 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 5 euro minimo storico che è qua che non ho mai visto a sto prezzo via redeemer se non ha che in slash frenetico vediamo un po' train 3 549 soma 559 sniper elite il 3 559 ottimo prezzo veramente un prezzaccio dillo veramente un prezzaccio nulla da dire a tal proposito vediamo sniper elite tira molto anche meno stavolta eh su instant gaming sta di più quindi anche per sniper elite almeno il 3 sta di più ma penso anche gli altri perché 7 euro e 38 sì vi consiglio di piagli last team perché sti prezzi qua sono troppi su instant gaming troppo col season pass sta 11.49 però perché quello dei dlc allora camouflage non ce ne fu thunder weapon pass sniper elite crisis weapon eastern front weapon outfit non ce ne fott eh dlc più importanti costano comunque quello di hitler sta 5 euro quello di churchill sta 3.49 ciascuno vabbè diciamo che uno si pia col season pass se li vuole assolutamente sì ma 11.49 ma fondamentalmente in genere season pass conviene sempre muoversi in questa direzione questa è tutta una mossa tattica ti mettono il gioco al prezzo che tu dici ah cazzo 5.49 è buono però vedi season pass ti dici 11.49 è un po' alto fammi controllare il dlc controllo e dici sì vabbè dai mi conviene il season pass tac e si pigliano più soldi capito capito assolutamente sì vediamo la 3 di lera shadow warriors il primo sta 3.26 il 2 non conviene prenderlo né da steam perché ho già visto prima né da instant gaming il primo vediamo allora toy story 3 videogames 5.87 più cast clemania ma che sono questi prezzi qua ma che se l'80% valentino rossi ancora 6 euro bad ass babes è quel gioco che sta anche su game jolt 7 euro troppo esattamente ti farei conoscere quei miei amici che dicono sopra il 5 euro non esiste niente dipende dal gioco dipende dal gioco vedi home front of the revolution non lo puoi mettere a 7 euro e 49 perché te l'hanno te l'hanno schiaffato ovunque praticamente su steam gifter la gente te lo buttava in faccia e ovviamente non l'ho vinto maledizione quindi non vale assolutamente la pena prendere manco serious questo qua mi sarebbe piaciuto ma comunque 7 euro e 49 no questo giochino qua per esempio io 7 euro e 49 lo metterei per il gioco dei transformers quello volentieri li spenderei agents of mayhem 7 e 49 sta marco wow black mesa non conviene raga black mesa questo gli sconti passati oh gli sconti passati stavano stava 4 e 99 me lo ricordo perché l'ho preso l'ho preso per fare un giveaway disney afternoon collection 8 euro questi sono i vecchi ducktales quello di chip e chop eh ma 8 euro sono giochi troppo vecchi per pagarli 8 euro per quanto siano belli e uno voglia farli stavolta sto talk show non è passato nessuno sta poca gente ho avuto più successo quello della playstation ma quello che sto qua lo fanno tutti guns gore e cannoli 2 life is strange before the storm 8 e 49 qua iniziano a salire i prezzi eh stiff questo mi sarebbe piaciuto eh ad esempio stiff 7 e 49 l'avrei valutato però no 9 euro no assolutamente no taste of the ballerans 9 euro e 16 no dai ma non possono mettere sti prezzi giochi che l'hanno bandrizzato quantum break 9 euro e 24 mamma mia anche la full clip edition di bullet stone killer instinct questo pure 7 e 49 l'avrei preso cazzo 9 euro e 24 no troppo ma io dico allora raga se vi piacciono solo i picchiaduro faccio un esempio ma nel caso di di killer instinct se siete appassionati solo di picchiaduro giocate solo a quelli o comunque li considerate li considerate come genere principale e vedete killer instinct a 9 euro e 24 sapete che vi interessa comprare solo quello allora raga in quel caso lì prendetelo ma io che sono appassionato sono un gamer che sono appassionato diciamo in generale mi piacciono tanti esigeneri non proprio tutti perché ad esempio le avventure grafiche non mi piacciono i gdr non ci vado tanto matto i giochi di platform mi piacciono relativamente per esempio io potrei valutare un bullet storm però non lo prendo perché so che con 9 euro e 24 come avete visto tutta la mia wishlist di prima calcolate io quanti giochi avrei potuto prendere con 9 euro dalla wishlist partendo dai 0,90 0,40 arrivare fino ai 3-4 euro quindi capirete perché non magari non più rimando l'acquisto di bullet storm anche se bullet storm mi piacerebbe tantissimo averlo full clip edition la stessa cosa per killing instinct stavo facendo il discorso se siete appassionati singoli di picchiaduro allora prendete quello e amen perché 9 euro e 24 non è un prezzo altissimo per un singolo gioco assolutamente questo è roba del virtual reality qua cazzate poi killing instinct ragazzi è stato un madame questo è 9 euro e 24 fosse stato eccolo qua parlando di activision call of duty world war 5 facciamo call of duty 5 costa 9 euro e 79 questo è un gioco porca puttana che dovrebbe costare 5 euro invece no costa 9 euro e 79 perché è un call of duty sui stanti che nemmeno sono i call of duty mettiamo solo steam non vedo neanche che te li svendano 13 euro sui stanti gaming sono incomprabili costano di più infinite warfare quello che costa di meno 5 euro e 86 no cost cost fa schifo non ve lo comprate manca 1 euro fa schifo regalato dai ma neanche se lo vincete su steam gift per fare un esempio chiedete il re-roll perché io l'ho vinto su steam gift se avessi saputo che fa così schifo per i questi re-roll perché è brutto ragazzi brutto a me non mi è piaciuto saranno gusti miei ma è brutto proprio i primi call of duty costano 9 euro ciascuno madonna il pacchetto della work chest 19 euro e 49 io il work chest raga l'ho pagato su amazon.com 10 dollari valutate voi ma che prezzi c'hanno qua cioè i dlc i dlc di black hop si stanno 10 euro ma che stanno fuori di testa questi ma perché ma chi se li compra per chi infinito warfare però sta 19,79 su steam su instant gaming sta molto di meno l'ho visto meno che non era il dlc il call of duty infinito 5 euro 86 ehi questo qua conviene prenderlo da instant gaming rispetto ai ai quanto ai 19,79 di steam conviene pigliarlo da instant gaming ecco questo è un acquisto che consiglio su instant gaming 5 euro 86 infinity warfare 5 euro 86 proprio per spingere al massimo e liberarsi delle chiavi ma anche world war 2 anche world war 2 costa di meno 35 su steam 26 su instant gaming non è un cattivo advanced warfare 0 e 37 su instant gaming su steam quanto ma quello su steam call of duty non è mai convenuto comprarlo mai io non ho mai preso call of duty da steam questi qua che ho non li ho mai presi da steam vabbè modern warfare 2 è pazzo l'ho presi al day one sia quello che quello nello stesso anno uscì modern warfare 2 e bf3 e io li presi tutte e due tutte e due al day one e ci ho giocato tantissimo ad entrambi il 3 lo presi a 20 euro questo a 19 e 59 è la versione dei title black ops 2 29 e 39 follia no aspetta si 29 e 39 follia proprio quanto costo su stand game black ops 2 black ops 2 9 euro e 57 allora di call of duty raga rinnovo e chiudo perchè il discorso non se lo merita più di tanto di call of duty raga non comprateli mai da steam perchè non convene andateli a cercare da qualsiasi altra parte che è capitate che sono costati di meno non guardateli su steam io ce l'ho in wishlist per ricordarmi di prenderlo però vado a guardare sempre altrove formula 1 2017 lo consigli se ti piace la formula 1 si tu rock 2 questo è costato anche 7,49 attenzione non ci siamo watchdogs il primo 9,89 ma dai ma stiamo scherzando ma questo questo su stand gaming costa la metà della metà no invece 6,29 costa sti pezzi di merda no vabbè ma lasciatelo perdo watchdogs che brutto che volevo vedere watchdogs 2 rock vediamo 2 rock su su istante se c'è eeeh che prezioni il primo tu rock vediamo quanto costa se l'hanno messo io l'ho dato lo regalai a natale se ti ricordi da 5 euro infatti tu rock sui 5 euro adesso eh no è rimasto tal fisso questo qua 5 euro lo consiglio è un bello è un bello sparatutto se siete appassionati di sparatutto va bene è bello prendetelo assolutamente vediamo vediamo intanto il f1 2017 13 euro e 74 lo stai su steam invece su instant gaming f1 2017 sta 12 euro 82 costa qualche euro in meno un euro e qualcosa in meno però in questo caso se sei proprio uno che vuole risparmiare lo vuole prendere da instant gaming va bene altrimenti prendetelo proprio da steam perché la differenza è veramente minima sette corsa ancora questi prezzi dirt rally ancora questi prezzi 10 euro agelos ragazzi è un gioco stile retro che ho scoperto grazie a demulare costa 10 euro è tantissimo per un gioco così anche se è del 2018 e non è un gioco vecchio questo è un gioco fatto adesso che richiama quello stile lì non è male è un bel platform è fatto veramente bene come emulare per esempio emulare nel suo caso vedete lui interessano solo questi giochi qua così retro quindi se se ne sbatte il cazzo per esempio di un bullet storm per farti un esempio allora uno dice va bene prenditi questo che sta a 10 euro e dai anche un supporto a questi sviluppatori che comunque credo siano piccolini da palp sei mutato no perché purtroppo lo sai che ho anche quell'altro impegno perché mentre tu parli e controllo poi quello che tu dici devo anche purtroppo fare quell'impegno lì con quegli altri saldi mi hai capito già quindi ti ascolto Duke Nukem Forever sono qui a bacchettarti quando dici una cosa non esatta però per ora ok Duke Nukem Forever raga prendetelo da Instant Gaming anche se non è il DLC però la versione base sta 1 euro e 49 quindi piatelo da Instant Gaming che qua su Steam sta 5 euro questo qua è un altro per esempio gioco che consiglio soprattutto da Instant Gaming prendetelo raga questo ve lo consiglio è uno degli acquisti che vi consiglio quest'anno sui saldi 2018 insieme a quelli che ho dato prima perché voi direte perché questo gioco è stato tanto odiato io no a me è piaciuto sarò che sono forse troppo fan del Duke probabile però è uno sparatutto per quello che deve dare da da il giusto vi consiglio di prenderlo da Instant Gaming e tra l'altro vi potete prendere quest'altro DLC The Doctor V che è l'unico DLC che vale la pena prendere l'altro di Gonzo non serve a un cazzo quindi lasciatelo perdere vi fate il gioco più il DLC essenziale 1 euro e 99 più 1 euro e 49 sono 1 euro e 49 noi facciamo 1 euro e 50 sono 3 euro che ho aperto scusate ho aperto BS 3 euro e qualcosa facciamo 3 euro e pochissimi spiccioli vi prendete un gioco completo con l'ILC completo per 3 euro e pochi spicci se siete fan del Duca compra installatelo che c'è più di Duca e Nukem su Steam non c'era pure Manhattan Project qua bombshell non l'hanno scontato vabbè ma quello fa cagare quindi va bene così vediamo il Shadow Warrior su Steam abbiamo controllato che Warrior il 2 14 euro è stato anche a 12 quindi attenzione il primo allora Shadow Warrior Classic quello è gratis volete via Shadow Warrior quello là Marco 8 euro e 74 non è il minimo storico no purtroppo no ma è veramente di un paio d'euro onestamente visto che è di scena no ma non prendete però per quelli proprio desiderosi prendetelo da Instant Gaming vedete 3 euro e 26 la si conviene perché è stato tra l'altro è meno anche di quando è stato al minimo su Steam quindi Shadow Warrior è un altro gioco che consiglio lo so raga parlo tanto degli FPS ma io sono appassionato principalmente di quel genere quindi vi posso consigliare questi qua anche il Redux 2 euro e 49 non è male non è altro che il classico rifatto diciamo 2 euro e 49 si può fare anche perché non lo mettono da nessun'altra parte quindi ah ci sono i giochi quelli di Sega Classic vediamo quanto stanno i vacchettini ah addirittura il pacchetto il pacchetto totale di Sega Mega Drive e Classic non l'hanno scontato è rimasto a 30 euro purtroppo neanche i singoli giochi solo alcuni li hanno scontato era da immaginare se tu pensi che per console di nuova generazione lo stesso pacchetto si è uscito praticamente un mese fa sarebbe stato un conflitto ma che è stata la serie che hanno fatto alcuni giochi singoli che hanno che hanno scontato per esempio Sonic ma lo fa Sega è una colpa di Sega ma così lei è il publisher fa lei queste schifezzate che prezziano ma è una schifezza scusatemi i giochi singoli vedete stanno 0,99 ma che è sto prezzo 4,49 scontato 1,52 euro eh sì ma i cretini di Sonic poi che questo fanatica l'ha fatto tutti i Sonic per 2 euro te li ha dati che cosa è appena uscito un mese fa Claudio è il pacchetto di dei Sega Classic per le nuove console allora perciò non ne hanno scontati perché i figli di puttana lo devono vendere su console i figli di puttana capito tra l'altro hanno fatto sta porcheria di aumentare il prezzo quindi bocciata Sega non guardo neanche gli altri titoli perché non se lo merita non faccio pubblicità a queste porcherie mi dispiace per Sega ma su questo mi ha un po' deluso tabletop simulator non arriva al prezzo che voglio questo è un altro gioco che voglio perché mi piacciono i giochi da tavolo tra l'altro vorrei fare in streaming gli scacchino continuo a non costare quanto dico io qua si va si inizia ad arrivare 10 euro io non prendo nulla sui 10 euro anche perché non posso però vediamo se ci sta qualcosa di farming simulare il 2017 tu cazzo di ori porca puttana ancora 10 euro mannaccia sicuramente sarebbe stato bello megaman e legacy collection ulc6 ulc5 eh minca cia costa di più il 6 cia costa di più il 5 no uguale lo dicevo borderlands sensei agar fishing non l'hanno scontato proprio the takeover minca questi non l'hanno proprio scontato pre l'ultimo pre 15 euro mmm vabbè qui stiamo sforando stiamo arrivando 16 euro giochino più scontati ecco per esempio mi aspettavo uno sconto maggiore ma qua mi sa che pur hanno compato un po' come mi chiamo su steam vivi sectorita tutto attaccato gladio mi aspettavo uno sconto maggiore per sto gioco qua hellblades sermon sacrifice 18 euro tanto da sniper ghostwire 3 non l'hanno proprio scontato sniper elite 4 e 18 euro vabbè qua andiamo oh friday the turtle l'hanno rimesso su steam però questa è una brutta notizia nel caso non faranno più nulla di nuovo hanno perso la causa non hanno nessun diritto a creare nuovo materiale è tosta per chi segue quel gioco non ci sarà niente più questa è un'altra notizia proprio di oggi questo è un altro i due titoli che avrei preso anche descenders 19 e 54 mi aspettavo uno sconto maggiore ma no infinito web e call of duty ne abbiamo parlato tekken 7 tantissimo 20 euro assolutamente troppo se vi piacciono i picchiature prendetevi killer instinct beh qua si va si va nel pesante insomma wolf vediamo wolf il 2 costa 20 euro e qualcosa 20 euro e 39 no 23 no 23 e 99 madonna wolfenstein vediamo il primo quanto costa vediamo anche sui stanzi polfenstein eh il 2 già sta 17 euro 80 the old blood 488 il primo wolf stein 484 vediamo su steam quanto costa 10 euro eh questi qua conviene già prenderli su istant vedete quindi se volete comprare i wolf stein andate su istant gaming con questi prezzi qua sono giusti e buoni tutto attaccato così guarda vivi sector ita cerchi questo mi trovi anzi guarda visto che me trovo facciamo così proprio guarda ti ti faccio ti linko direttamente il mio profile amen devo scendere sit fighter 5 arcade edition 2399 mamma mia prezzaccio prezzaccio sì nel senso che è troppo eh non so però già c'ho mio fratello che mi sa mi sa bloccare con le manine che mi si mena the king of fighters 14 steam edition 2749 vabbè quasi arriva i 30 euro raga è inutile guardare perché non sono più saldi ma sono prezzi pieni cioè già la gente gli fa schifo comprare i giochi a 2 euro figurati a 30 quindi è inutile parlarne tra l'altro io ora mi maximo la la medaglia di dota grazie a nox che mi ha riempito di carte di dota sono riuscito a farmare la medaglia di dota quindi se se ne ascolto grazie nox ora avrò degli sfondi da scambiare però perché li tengo doppi eh questo ce l'ho quanto 1 2 4 volte sto sfondo che palle che cazzo di palle l'emoticon solo una mi fa doppio vabbè questa medaglia qua l'abbiamo apparato sono dei sali saliens che altro c'ho da dire sui saldi cosa 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 abbiamo ricorda ricorda ancora che penso che è una cosa che interesserà praticamente a tutti il fatto che si possano prendere ogni giorno sei carte al di là quindi oltre alle carte che comunque stiamo droppando ogni volta che farmiamo medaglie con questo metodo qua vediamo se funziona si funziona se poi vogliamo fare i più lurcatori del mondo se prendiamo sei carte al giorno minimo minimo per tutti i giorni arriveremo a guadagnare almeno quattro euro quindi tenetevi conto di un gioco di quattro euro che steam ve lo regalerà semplicemente accedendo tutti i giorni allo store io dico sì quindi visto che volete sicuramente tu rock 1 perché avete buon gusto ve lo regal ve lo prenderete grazie no stava andando così bene se poi avete più di un account perché siete dei farmatori professionisti potrete arrivare anche a 10 euro completamente a casa e niente poi se farmate medaglie come avete come ha fatto Vivi comunque raga uno può andare avanti no può andare avanti a parlare dei saldi possiamo andare avanti e vedere tutto il negozio però abbiamo penso dimostrato quasi chiaramente che anche quest'anno conviene poco comprare da steam perché l'instant gaming la maggior parte delle volte ha battuto i prezzi di steam soprattutto su giochi anche importanti come di Shadow Warrior quindi occhio sempre a guardare anche altri siti perché non esiste solo l'instant gaming esistono siti di bundle esistono altri siti di gay come G2A che ho già detto quindi tenete sempre occhio steam purtroppo questa battaglia mi è arrivata la tua richiesta eh Claudio questa battaglia la sta perdendo ma non capisco perché faccia così perché un tempo raga i saldi di steam erano veramente un eventone cioè anche all'epoca che c'era il clicker non quello di quest'anno l'ultima volta che ci fu il clicker mi ricordo che era veramente un eventone adesso la gente parte veramente prevenuta che dice tanto fanno schifo i saldi eh ma per come abbiamo visto oggi per un buon 60% 70% pure steam viene battuto da instant gaming eh io i miei consigli ve li ho dati The Pulp pure vi ha confermato le minimi storici e quant'altro vi ripeto saremo qui altre ore a continuare ma è inutile perché tanto l'ho dimostrato i Wolf e Stein sono sono quelli là che sono quelli là che gli ultimi che abbiamo dimostrato che conviene prendere da instant gaming quindi direi che va bene va bene così eh in live chi è rimasto vediamo un po' fammi sapere Alfio se ti prendi Resident Evil Gladio tu se tu è F1 2017 se lo vuoi prendere abbiamo detto che conviene prenderlo da da instant gaming che costa mi sembra qualche euro in meno poi se non ti scoccia perderli cioè metterci quegli euro va bene anche da Steam io ringrazio chi ha visionato chi ha visionato questa questa questo talk show spero di essere stato esaustivo ho cercato di sintetizzare quanto il più potessi perché se no veramente questa live durava 20 anni fra i problemi di Steam e la miliardi di giochi da controllare ho cercato di utilizzare il metodo più 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 conveniente diciamo più veloce ringrazio chi mi ha seguito in questa live ragazzi prima di chiudere però vi voglio dire fare un'ultima domanda avete qualche altra richiesta prima che chiudo avete volete che controlli altre cose volete un altro consiglio ditemelo adesso prima che chiudo la live intanto accetto Gladio intanto qua fatemi cancellare questa aspetta questa però la cancello dopo non mi serve più allora Gladio Alfio Overhats Overhats lo so che ormai non gli interessano più grazie io nemmeno sapevo dei saldi e beh se usi steam è impossibile non accogértene anche se c'è gente che ignora totalmente il negozio vi assicuro che anche in passato mi è capitato gente che al tipo quinto giorno se è uscito tipo ah ma ci sono i saldi steam non lo usi proprio il negozio steam che cazzo manco manco il cacchio di dire fammi fammi cliccare ci do una occhiata ah e grazie per il follow al mio canale ieri ma grazie a te per la tu mi segui tantissimo Gladio cioè uno dei supporter più accesi che più apprezzo e che insieme a Vanlock e pochi altri ormai siete rimasti in pochi quindi grazie a te assolutamente se vuoi qualche consiglio oltre formula 1 dimma allora prima che chiudo la live io ho mostrato un po' di cose ti invito inoltre se vuoi veramente acquistare qualcosa a rivederti questa live magari io mo la caricherò sul canale youtube caricherò anche il video cioè caricherò due video sia quello del giochino per spiegarvi come funziona molto velocemente perché è una stronzata alla fine è una vera stronzata e sia quello dei saldi così magari le persone che ponderano di più gli acquisti si informano meglio e magari poi decidono sul dove acquistare ricordatevi raga instant gaming il banner in basso trovate anche il link nella descrizione di sto video se volete acquistare i giochi perché conviene di più vi lascio con l'host io chiudo la live raga perché fa caldissimo non ce la faccio più sto da 5 ore in live direi che tanto io all'inizio facevo live di 12 ore se ci ripenso dico ma ero folle sì probabilmente sì perché live di 12 ore adesso non riuscirei a sostenerlo va beh ma fa caldissimo anche perché fa molto caldo anche perché mi scoccia stare 12 ore ho capito che non mi conviene più stare 12 ore in live perché come anche 8 ore qui nessuno mi paga io lo faccio solo per passione quindi sto cercando di raccapezzarmi anche con gli orari perché voglio avere un po' più tempo libero per me anche se mi devo andare a fare una camminata per esempio voglio farlo perché veramente basta stare qui a a fare sta cosa non esiste solo questo nella vita ci sono streamer che io ogni volta che vado su Twitch sta in live mi apro Twitch sta in live stanno sempre in live fanno live di 10 ore 12 ore come me fanno live spesso di 24 ore io non so come facciano sinceramente non lo so Gladio poi io ti dobbiamo parlare meglio qualche volta non adesso perché adesso dopo la live voglio stasciarla stavo un po' sul discord così non voglio più fare discorsi complicati vabbè domande non ce ne sono Gladio ha detto che poi riguarderà meglio ringrazio chi ha visionato questo ringrazio Depalp che nonostante abbia stavolta rispetto a quella della playstation ho parlato meno ma vabbè lui aveva io non ho avuto l'accesso ai dati lui tra l'altro non gli funzionava manco ho dovuto solamente usare isdareanideal.com sito che consiglio sempre a tutti quindi perdonatemi il mio silenzio non era voluto maledizione no no non ti preoccupare Gladio è una cosa anche magari che può farti piacere poi poi ne riparliamo non ti preoccupare penso che ti farà piacere sicuramente però devo capire prima dobbiamo capirci prima vabbè faccio lost a Nolan fammi vedere se ci sta in live o se sta per chiudere si è in live sta giocando Nightmare Credulous tra l'altro grande gioco il primo minchia ancora lo devi finire quanto cazzo tempo ci metto per finire un gioco comunque uno stay nerd stay pizza ragazzi eh oh aspetta però stavolta raga non vi voglio mettere la la mia solita canzongina ansi cazzo non vi voglio mettere E' stato pronto per un successo E' stato pronto per un successo E' stato pronto per un successo